Presidente, da oltre 15 anni la direttiva Bolkestein incombe quasi come nella spada di Damocle sul complesso e articolato sistema delle concessioni demaniali, in particolare le concessioni balneari con finalità turistico-ricreative. L'iter di recepimento della direttiva è stato complesso e caratterizzato da forti ritardi, ritardi dovuti alla difficile ricerca di un punto di equilibrio tra la promozione del libero mercato e della concorrenza e la legittima necessità di tutelare professionalità e investimenti di un comparto economico da sempre fondamentale per il nostro Paese. I diversi tentativi fatti in tal senso all'Italia sono stati oggetto di contestazioni della Commissione europea. Anche le proroghe delle concessioni previste dalla legge di bilancio 2019 sono state invalidate dal Consiglio di Stato, perché in contrasto con la direttiva. Tutto questo impone la necessità di una regolamentazione organica della materia, sia per dare delle risposte a imprese e amministrazioni locali, sia per stabilire delle regole chiare in un comparto che sta generando un continuo sviluppo che causa però anche molte criticità. Secondo il sistema informativo del demanio marittimo, sui circa 8.000 km di coste italiane, al 2021 erano presenti 61.500 concessioni marittime. Di queste, 12.166 sono stabilimenti balneari. Si tratta di un numero che è cresciuto del 12,5% in soli tre anni e si stima che sia addirittura raddoppiato negli ultimi venti. In questi numeri c'è un universo economico molto diversificato in una molteplicità di imprese, soprattutto a carattere familiare. L'economia turistico balneare sulle coste conta oltre 30.000 aziende, 300.000 occupati stagionali e un fatturato stimato in circa 15 miliardi di euro anni. L'assenza di una regolamentazione della materia delle concessioni balneari per finalità turistico-ricreative ha contribuito a uno sviluppo del settore con troppi eccessi e poco tutele. Molto spesso non è un problema di quantità, ma di qualità, degli interventi sull'ambiente. Secondo l'Ega Ambiente, il 43% delle coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari, ma, secondo una stima più credibile, oltre il 50% delle aree stabbiose è di fatto sottratto alla libera e gratuita fruizione. Si tratta di un dato medio, ciò significa che in alcune aree del Paese non è di fatto possibile accedere liberamente alla battigia senza dover pagare l'accesso a uno stabilimento. In alcune regioni d'Italia quasi il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari. Tutto questo rappresenta una grave minaccia per una risorsa naturale limitata e fragile con l'ambiente marino costiero, sottoposta a un progressivo fenomeno di erosione. Nell'ultimo mezzo secolo sono andati persi 40 milioni di metri quadrati di spiagge. Oggi in Italia il 50% delle coste sabbiose è soggetto a erosione. Circa 1.700 chilometri di litorale ogni anno arretrano non solo per l'effetto dell'innalzamento del livello del mare. Alla base del fenomeno c'è soprattutto uno sfruttamento eccessivo e sconsiderato dall'ambiente costiero, sfruttamento che non solo è causa dell'accentuarsi dell'erosione, ma impedisce anche quelle attività di tutela ambientale necessarie e urgenti se non vogliamo sperperare un'importante risorsa. L'assenza di una regolamentazione della materia impedisce anche interventi uniformi su tutto il territorio nazionale, lasciando alla sensibilità delle singole amministrazioni e dei singoli imprenditori la tutela del territorio. E questa situazione non giova neanche alle case dello Stato, visto che secondo la Corte dei Conti, a fronte di un fatturato di circa 15 miliardi all'anno, viene prodotto un gettito di appena 100 milioni. La stessa autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che nel 2019 oltre 21.500 concessioni di maniali maritime versavano un canone inferiore a 2.500 euro. Si tratta di canoni che molto spesso risultano ridicoli rispetto ai prezzi elevati in cui vengono offerti servizi in alcune rinomate località turistiche del nostro Paese. Le sentenze del Consiglio di Stato intervengono in questo contesto, un contesto nel quale il Governo dell'ambiente costiero e l'imprenditoria balneare si sono sviluppate in maniera diversificata a macchia di lopato, ritardando gravemente la pianificazione di uno sviluppo sostenibile in grado di tutelare ambiente, imprese e cittadini. Soprattutto le sentenze rischiano, da una parte, di danneggiare migliaia di imprese del settore che contavano di ammortizzatori in un arco temporale molto ampio, gli investimenti programmati. Dall'altra rischia di delegare alle amministrazioni comunali le maggiori responsabilità nel definire in solitudine criteri e modalità di delegare. La sospensione dell'efficacia delle sentenze sino al 31 dicembre 2023 garantisce alle legislature e di pianificare, seppur in un lasso temporale troppo breve, una regolamentazione della materia in grado di soddisfare allo stesso tempo le attese dei concessionari uscenti e di pianificare misure di tutela ambientale. Con questa mozione noi impiegniamo il Governo ad avviare un processo di regolamentazione che definisca con chiarezza il perimetro normativo della materia delle concessioni balneari con finalità turistica. Questo processo non può che essere portato avanti con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, associazioni in categoria, ambientalisti, amministrazioni regionali e comunali. Le regioni e l'Anci devono essere coinvolte nella definizione delle linee guida dei bandi per fare in modo che siano tutelate le specifiche esigenze territoriali. Per questi motivi noi aspichiamo che questo processo di regolamentazione si concluda con la definizione di una legge quadro che stabilisca alcune regole fondamentali. In primo luogo, regioni comuni non possono essere esclusi dalla pianificazione del loro territorio. Le gare di assegnazione degli spazi del demanio marittimo devono essere bandite solo a seguito dell'approvazione del piano di utilizzo dei litorali, nell'ambito dei quali vengono specificate la percentuale di spiagge da destinare a concessione e quella a spiaggia libera, le tipologie dei servizi richiesti per ogni zona o spiaggia, le previsioni dei punteggi premiali per tutti i soggetti che si impegneranno, appena di decadenza, a svolgere il servizio individuato nel piano di utilizzo del litorale per tutta la durata della concessione. Noi vorremmo infine che questa riforma della materia sia portata avanti all'insegna della sostenibilità e del rispetto del principio del libero e gratuito accesso alla spiaggia, principio troppo spesso non rispettato. Oggi ci sono realtà imprenditoriali balneari che hanno fatto della tutela ambientale e della sostenibilità un valore aggiunto. Aiutiamo queste realtà a crescere, a restare sul mercato, a essere protagoniste nelle campagne di tutela del male. Tra gli impegni abbiamo inserito la piena applicazione della normativa sul libero e gratuito accesso alle spiagge, prevedendo anche un'adeguata attività di informazione presso i lidi balneari attraverso una segnaletica e cartellinistica informativa sui diritti di accesso e obblighi in capo ai concessionari. Come detto, le sentenze del Consiglio di Stato aggiungono in attesa e rispetto alla previsione del legislatore che aveva prorogato le concessioni al 2033. Il rischio è di cogliere impreparato tutto il comparto, comprese le amministrazioni locali. Chiediamo pertanto, nell'emore dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ogni iniziativa urgente, anche di carattere normativo, per garantire una uniformità di interpretazione e di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella proroga delle concessioni e nelle indizioni delle nuove gare. Grazie, Presidente.